Tutti siamo alla ricerca di qualcosa, ognuno in attesa della sua. Mamma, vado al lago! Ritorna prima che faccia buio! Era un bambino introverso, ma aveva molta fantasia. Non aveva tanti amici, ma, di certo, ne aveva uno speciale. Lo sai, specchio, oggi io e Ciacca vi ho corso tutto il tempo nel giardino. Ok, ora va meglio. Ma che gli succede? Io proprio non capisco. Credevo che questo suo malessere fosse passeggero, ed invece... Se piangere ti fa stare meglio, allora farlo. Grazie! 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 Grazie!